Un giocatore che ogni domenica cresce sempre più in campo, cosa ci puoi dire? Posso dire che sono contento, sono contento sia della fiducia che mi dà il mister domenica dopo domenica perché come sapete fondamentalmente il mio ruolo è quello di mezzala, però riesco a fare bene anche il quinto e come ha detto lei si cresce di domenica in domenica, poi giocando acquisisci sempre quel qualcosa in più e grazie a Dio poi anche la squadra mi dà una mano e sicuramente la vittoria di oggi era molto importante due risultati consecutivi sono importanti e ci danno tanta fiducia per andare avanti. Quattro gol fino adesso, capocannoniere del Ravenna, per un gol non sei capocannoniere del Girone però ancora presto ovviamente per parlarne. No ma di quello non mi interessa, non guardo quelle cose anche perché non sono mai stato un bomber quindi di quelle cose non mi interessa, cerco di essere d'aiuto per la squadra e speriamo di continuare così.